Federico, innanzitutto ben arrivato, ti chiedo come è maturata la possibilità di questo trasferimento ad Arezzo a neanche metà stagione per la Serie D. Grazie per questa accoglienza. Appena il mio procuratore mi ha chiamato e mi ha detto che ci stava la situazione a Arezzo, non ho esitato a dirgli di no. Ho detto subito di sì, andiamo, perché so che società è, so le ambizioni di questa società e sono qui per vincere ovviamente, non ci sono dubbi su questo e spero di dare il mio contributo per portare questa piazza veramente dove merita. Tu sei un giocatore che nasce come trequartista, sempre dotato di grande tecnica, adesso fai il play, come è maturata questa evoluzione tattica nella tua carriera? Sì, sono nato come trequartista, ma all'occorrenza ho anche fatto la mezzala. Poi cinque anni fa, il periodo di gennaio, il mercato di gennaio, dalla Torres mi sposto al Savoia e lì ci stava il mister Papagni che alla prima subito al debutto mi mette in campo come vertice basso a Benevento. Poi da lì ho sempre fatto il vertice basso. A Molfetta tra l'altro avevi ereditato la maglia di Strambelli che adesso ritrovi, non so se ci hai già parlato con lui, se è un giocatore che conosci, immagino, vista la vostra comune origine, che cosa pensi di lui e che impatto hai avuto con lo spogliatoio? Sì, con Nicola sono un amico anche perché siamo della stessa città, però so il giocatore che lui è, un giocatore importante, un giocatore forte, non di queste categorie. E niente, spero che ci faccia sognare in grande perché lui è un giocatore che ha queste potenzialità e secondo me ci darà una grossa mano e ci farà vedere belle cose. Ti arrivi in una squadra che non vince dal 31 ottobre, che ha avuto qualche problema di gioco e di risultati ultimamente, anche con il pubblico si è creata una certa frizione. Ti chiedo se questo a un certo punto ti aveva quasi fatto cambiare idea per venire qua e cosa bisogna fare adesso invece per cambiare le cose? No, ma guarda, sinceramente non vado a guardare la classifica, anche perché ci sono parecchie partite da qui a fine campionato, quindi faremo di tutto per raccorciare in queste cinque partite da qui a Natale e sicuramente dobbiamo fare qualche vittoria. Poi del resto i conti si fanno alla fine, gli otto punti di distacco per me, a mio avviso da quello che ho visto ieri in campo, possono essere recuperabili. Ti chiedo se sei pronto per debuttare già domenica e che impressione ti ha fatto questa squadra vista dal di dentro? Non avevo dubbi sulla squadra, anche perché conosco i giocatori, quindi sapevo che venivo in una squadra abbastanza costruita, anzi costruita per vincere. È abbastanza forte. Sì, sono pronto, ma alla fine il mister decide, il mister fa le sue scelte, io sono qui e rispetto ogni scelta del mister. Grazie. Grazie mille.